Sì, un contributo di 30.000 euro dai nostri fondi per il ripascimento spiaggi dedicate alla spiaggia delle Fornaci. La spiaggia delle Fornaci è una zona centralissima di Savona, una zona molto legata anche agli stessi savonesi, che però vive in condizioni di difficoltà anche perché noi riteniamo che in questi anni non ci sia stato un impegno forte dell'amministrazione regionale. Il progetto è molto complesso e anche costoso, noi iniziamo con piccoli interventi anche grazie alla collaborazione dell'attività portuale, diamo questo contributo al Comune di Savona al quale facciamo anche un monito, visto che la stagione è praticamente iniziata, noi diamo questi soldi ma vogliamo già domani mattina vedere le ruspe che possano intervenire per rendere la stagione estiva e quindi questo anno sicuramente migliore per questa zona centrale di Savona. Certamente non è la panacea dei problemi, servono più fondi, stiamo lavorando per cercare di trovarli e per dare una risposta definitiva a questa zona. Grazie. 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 Grazie.